Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo genitori. Stefano De Martino e Belen Rodriguez non smettono mai di far parlare di sé. Dal primo incontro nel talent show di Maria De Filippi, alla nascita di Santiago, il matrimonio, la separazione e il ritorno di fiamma dopo quattro anni. La modella argentina e il ballerino napoletano sono innamorati più che mai e da qualche tempo hanno deciso di allargare la loro famiglia. Ad alimentare questa indiscrezione ci hanno pensato i diretti interessati attraverso una recente intervista al magazine Diva e Donna. La coppia ha detto che non vedono l'ora di mettere al mondo un fratellino o sorellina a loro Santiago. Settimane fa anche Cecilia Rodriguez aveva detto che molto presto avrà un secondo nipotino, sperando che questa volta sia una femminuccia la possibile prova della seconda gravidanza dell'Argentina della possibile seconda gravidanza di Belen Rodriguez se ne discute da mole settimane su social network. Ad esempio prima del Santo Natale la subretta argentina si era mostrata su IG senza veli coperta solo da un lenzuolo. A corredo della foto bollente la donna aveva chiesto ai follower se avevano terminato di incartare i regali visto che lei si era portata avanti. Sotto quel lenzuolo rosso trasparente si intravede un pancino sospetto che, stando ai rumors la modella dovrebbe aspettare un altro maschietto. Ovviamente lo scatto è stato assaltato dai seguaci che hanno tempestato di domande e di likes la loro beniammina. Quindi la conduttrice di Tussi che vale se la sua dolce metà trovano sempre il modo di catturare l'attenzione della stampa e del popolo del web. Le critiche a Belen Rodriguez essere un personaggio e i suoi benefici, ma nello stesso tempo si è consapevoli che possono arrivare delle feroce critiche visibili a tutte. Infatti sui profili Instagram di si vedono tantissimi complimenti, ma nello stesso tempo si vedono dei commenti al vetriolo, in particolare contro la modella. Ad esempio qualche giorno fa un leone da tastiera si è scagliato contro l'Argentina accusandola di mostrare troppo al pubblico invece di vivere la sua intimità in privato. A quel punto la donna ha scritto guardone, cambia profilo.